Un miliardo e 36 milioni di euro. E questa la cifra imponente che da qui al 2027 può ricadere sulla crescita e lo sviluppo economico della Regione Marche grazie a fondi comunitari ed europei intercettati grazie all'effetto moltiplicatore dei cofinanziamenti della Regione Marche. Opportunità e nuove sfide che dopo Fermo ed Ascoli sono state presentate dalla Regione Marche nella terza tappa di Pesaro in una sala di consiglio provinciale gremita di sindaci e amministratori locali. Come Regione Marche con il bilancio ordinario potevamo dare tante risposte però abbiamo guardato all'Europa, abbiamo guardato la programmazione europea, abbiamo guardato alle risorse della programmazione europea con tanto ottimismo. Per attivare le risorse della programmazione europea bisognava cofinanziare. Molte regioni o non hanno cofinanziato o hanno cofinanziato poco. la Regione Marche ha cofinanziato 140 milioni di euro. Siccome esiste un moltiplicatore per la programmazione europea di 1,6 e rotti, i 140 milioni cofinanziati sviluppano una risorsa di 882 milioni. Più ci sono risorse complementari, quindi noi come programmazione europea mettiamo a disposizione degli enti locali, delle imprese, dei cittadini e di tutti i vari stakeholders 1 miliardo e 36 milioni. Questa è una cifra imponente, riusciremo a dare tante risposte. Il problema fondamentale è quello di supportarci delle professionalità tali da rendere il percorso della programmazione, quindi molto più veloce e molto più semplice. Quindi insieme alla Svem metteremo, che è una partecipata della Regione Marche, metteremo a disposizione le professionalità proprio per star vicino ai sindaci, alle piccole e medie imprese e agli altri che possano far domande. Una bussola d'orientamento ai fondi fornita dagli assessori regionali Brandoni, Antonini, Aguzzi e Baldelli, concretizzata dal braccio operativo di Svem, Società Sviluppo Europa Marche. Svem è il braccio operativo di Regione Marche e si muove su input appunto dell'amministrazione regionale. Ha un ruolo importante perché si occupa intanto di europrogettazione e poi soprattutto di assistenza tecnica per i programmi importanti per il POR e per il FESER e assistenza tecnica significa il controllo di tutte le progettualità presentate dalle imprese affinché poi si possa procedere all'erogazione delle risorse. In più ha costruito un network importante relazionale con omologo e organizzazioni di sviluppo delle regioni, soprattutto del centro Italia, per allargare ancora di più gli orizzonti di questa nostra regione su temi della valorizzazione delle aree interne, della transizione ecologica, della transizione digitale su aree di interesse non solo per le imprese ma anche per le comunità di cittadini e soprattutto per i comuni che hanno bisogno, come le imprese, di avere quel rilancio per lo scatto in avanti. Fondi che si riverseranno trasversalmente su ogni genere di opportunità di crescita economica, culturale, occupazionale o infrastrutturale. Toccano tutti gli aspetti, dal trasporto pubblico locale all'energia, all'ambiente, alle piccole e medie imprese, al credito, all'occupazione. Questo tour che facciamo nei territori, fra l'altro con riscontri molto favorevoli, serve proprio per far conoscere quelle misure che poi possono essere fruiti da diversi soggetti, sia pubblici che privati. Ci sono tante opportunità nella programmazione 21-27, sta ai vari soggetti fruibili, fruitori, possibili, trovare la misura per costruire un futuro necessario. Siamo partiti indietro, abbiamo la necessità di fare dei passi in avanti importanti. Per la prima volta abbiamo un panel di misure significative, anche come ammontare, e soprattutto molto molto articolate, quindi fruibili per ogni categoria di destinatario. Diciamo che abbiamo la responsabilità in questi mesi di veramente porre le basi di quelle che saranno le marche dei prossimi 15-20 anni. Allora è fondamentale fare questi incontri per illustrare quali sono questi strumenti. in questo caso, in modo particolare, oggi parliamo di fondi europei, oltre un miliardo di euro che nella programmazione 2021-2027, quindi ormai 2023-2027, verranno immessi attraverso dei bandi nella nostra regione. Quello di Pesaro è stato dunque un primo incontro esplorativo, le cui opportunità verranno poi rinnovate dalla conseguenziale produzione di bandi. Sarà un percorso che durerà 4 anni, nel quale di volta in volta presenteremo dei bandi su dei temi diversi, che vanno dal sostegno alle imprese, di cui mi occupo io in modo particolare, ed è la parte più importante. Però ci sono anche dei fondi per gli enti locali, per la gestione del territorio, per il lavoro, per la formazione, anche per la cultura, per il turismo. C'è una parte anche molto importante che riguarda il trasporto, i trasporti e l'energia. L'energia che diventa strategica insieme alla transizione digitale, perché rappresenta e sintetizza perfettamente quelle che sono anche le indicazioni che l'Europa ci sta dando proprio per cercare di essere assolutamente al passo coi tempi.